Allora, io ogni tanto vorrei aprire internet e leggere qualcosa di buono o di bello, soprattutto per quelle che sono le realtà videoludiche moderne, ma in generale il settore videoludico. E invece giorno dopo giorno mi trovo a leggere cose che non solo fanno arrabbiare in maniera estrema, ma mi fanno anche domandare a che punto siamo arrivati per quanto riguarda la gestione della situazione tecnologica videoludica a livello italiano. Perché questo? Perché notizia di oggi, o meglio credo tra stanotte e oggi, giorno in cui giro questo video, il 30.04, che è arrivata la fantastica e assolutamente molto poco retrograda notizia che le sale lanne e sportive sono state rese, passatemi in termini illegali, o comunque sono state poste sotto sequestro per controlli maggiori dopo la segnalazione di un individuo che invece tratta tutto quello che riguarda il comparto ludico del mondo, slot machine, biliardo, eccetera. Praticamente che cosa è successo? La società LED di Sergio Milesi, un individuo che tratta dalla parte ludica un pochino più classica, insomma, tutto quello che ha a che fare con i bar, sale di intrattenimento, eccetera, ha fatto un esposto all'ADM, all'Agenzia delle Dogane in Italia, per fare dei controlli, insomma, per quello che riguarda il mondo del LAN, quindi tutto quello che riguarda sale sportive, LAN bar, LAN party, eccetera, eccetera, eccetera. Perché questo? Perché secondo l'esposto che è stato divulgato, secondo questa sorta di ricerca in maniera estremamente strecciata, che credetemi è una cosa incredibile, c'è la supposizione che i computer messi a disposizione all'interno di questi posti possano essere usati legalmente per fare cose illecite. Insomma, è un po' come dire, tra un coltello e un cucchiaio, anche il cucchiaio può uccidere, ma ci vuole un po' più di tempo, insomma, un modo per cercare di porre un grandissimo freno alla potenziale concorrenza. Perché dico questo? Perché per quanto questa novità sia stata esposta dagli Sport Palace di Bergamo, appunto a capa informatica, in realtà questa situazione colpisce tutta Italia. Ecco, quindi questo signore con una mossa è riuscito a mettere in crisi tutto il comparto di sportivo italiano per una sorta di zona grigia a livello legislativo. E questa cosa ovviamente a chi va a far male? A tutti coloro che sono imprenditori, a tutti coloro che hanno questo genere di propensione all'imprenditoria, quindi tutto quello che è il mondo un po' più moderno, un po' più giovane, e che ovviamente dopo il Covid di certo l'ultima notizia che volevano avere era quella di trovarsi dentro magari le fiamme gialle, in generale a bloccare tutta la loro attività. Ma per capire esattamente di che cosa si tratta, voglio leggervi un estratto anche di quello che è uscito fuori oggi tra le varie notizie, in modo tale da non avere problemi un attimino nella comprensione, o meglio cercare di divulgare quelle che sono le notizie il più fedeli possibile, senza l'effetto passaparola. Quello che qui si legge, appunto, parlando di questo esposto che è stato fatto, leggiamo insieme, ma da dove arriva questa chiusura improvvisa? L'esposto presentato all'Agenzia delle Accise, delle Dogane, dei Monopoli, porta la firma di Led SRL e della D Sergio Milesi, il cui intento, come riferito da AGMG, è chiarire se le sale giochi e sport non violino la normativa vigente, che è quella che controlla tutte le altre sale, diciamo, dove c'è di mezzo del denaro. Il nostro settore, secondo quanto dice Sergio Milesi, ha avuto un periodo molto complicato a seguito del Covid, è come se non bastasse, ora ci troviamo come competitor delle attività ludiche che al loro interno ospitano apparecchi senza gettoniera, ma che richiedono di pagare un determinato prezzo all'ingresso e per poter giocare ai cosiddetti giochi elettronici, già qui siamo praticamente indietro di 50 anni con i termini, ha spiegato Milesi. Noi abbiamo forti dubbi sulla liceità di questi locali e per questo vorremmo che l'Agenzia facesse luce in tal senso. I nostri apparecchi sono sottoposti a numerosi controlli e basta che manchi solo un'autorizzazione a far scattare il sequestro, mentre queste attività non sembrano tenute a tutte queste procedure. Non riusciamo a comprendere entro quale quadro normativo opri noi e per questo chiediamo ad ADM di chiarire se queste attività sono lecite o meno o a che tipo di normative devono sottostare. Fino a quando non si riuscirà a fare chiarezza riguardo, le sale lane di sport dovranno restare chiuse come temono i principali player del settore. Il provvedimento potrebbe stendersi anche oltre i confini degli specialisti del gaming. Questa cosa è molto grave perché sottolinea per l'ennesima volta una mancanza di comunicazione e di aggiornamento da parte del sistema italiano a punto di vista economico, politico eccetera, su quella che è una realtà che è presente da tanto tempo. Ad esempio addirittura ad Alghera avevamo una sala lan, pensate un po' quando andavamo avanti. Da quello che si legge all'interno di questa chiacchiera, i problemi sono altri. Sono da ricercare in un mancato aggiornamento anche in quello che è il sistema legislativo da questo punto di vista. Per citare alcune cose basti pensare che i codici a te con Italia non vengono aggiornati dal 2007 quindi non abbiamo addirittura dei posizionamenti professionali per le partite IVA che esercitano in determinati specifici settori. Un'altra cosa è il paragone tra le sale slot, le sale da gioco con le sale sportive. Cioè qui non si tratta di avere un premio in denaro per aver giocato una sessione di League of Legends ma si tratta semplicemente di un luogo dove andare a fare ricreazione, un posto dove ritrovarsi con gli amici visto che, non lo so, ci dicevate che ci bruciamo gli occhi davanti ai monitor non uscendo di casa dobbiamo andare a conoscere persone. Insomma, dei luoghi di ritrovo per delle persone non solo magari per giocare ma magari per allenarsi o semplicemente fare squadra. Le sale sportive di base poi garantiscono anche la presenza spesso e volentieri di bar comunque la possibilità di permanere nel posto e pagare appunto una quota mensile per poter usufruire delle postazioni un determinato tot di tempo. Questo anche va a un attimino a combattere la potenziale ludopatia, se così si può chiamare. Beh, al contrario di tutti quelli che rimangono chiusi davanti alle slot machine a giocarsi gli stipendi e mandare in vacca la propria vita. Insomma, le legislazioni secondo tale Sergio qua devono essere pari o comunque sia regolamentate un po' come accade a loro. Il problema è che il mondo delle slot machine è un mondo decisamente più aspro rispetto a quello dei sport. Ora, capisco il fatto del dire che le console casalinghe devono essere regolamentate all'interno di alcuni esercizi, ma il problema è che in questo caso il mondo degli sport, o meglio il mondo di queste situazioni come le sale sportive non è regolamentato da una esatta classificazione legislativa. Cioè non è un bar, non è un bar con le slot, è un'attività, spesso e volentieri un SRL, quindi un'attività con ingresso pubblico, che paga le tasse come chiunque altro, a meno che tu non vada a mettere le cose che sono regolamentate, come le slot machine che garantiscono sgravi fiscali, percentuali, eccetera. Quindi questo non è altro che un servizio al cittadino, passando il termine. Ma il problema qui è anche comprendere di che cosa si tratta. Io capisco la paura del poter esercitare in maniera malevola l'utilizzo di quelle console o comunque sia di quei PC che sono presenti e disponibili lì, per magari cosa ne so, andare a giocare in un casino online che ha sede legale nelle azzorre. Ok, posso capirlo, ma stiamo veramente strecciando il concetto in un modo estremo. Io invece penso che a question di video abbia davvero roso il culo per la questione delle sali sportive, perché magari ha scoperto di punto in bianco una realtà che andava a configurarsi come un potenziale competitor nella sua testa e quindi ha deciso di fare una mossa che, qua gliele devo dare atto, è stata geniale. Tuttavia, la questione delle slot machine o delle sale gioco di quel tipo ha anche un target molto differente dal punto di vista del marketing e dell'attrazione del pubblico. Spesso e volentieri il mondo esportivo ha a che fare con un mondo che a sua volta non ha nulla a che vedere con il mondo delle slot di quel tipo di intrattenimento. Perché? Perché le persone che hanno a che fare col mondo esportivo di videogiochi hanno tutte altre abitudini. Mentre nel mondo delle slot machine, nel mondo di quel tipo di intrattenimento ludico differente, biliardo eccetera, c'è una tipologia di persona che è un po' più legata alla movida. Il mondo esportivo è fatto da persone che vivono chiuse in casa. Ora, sì ragazzi, sto un attimino memando, estremizzando, ma sapete benissimo di che cosa sto parlando. Paragonare o cercare di regolamentare allo stesso modo, con la stessa attenzione, questi due mondi è qualcosa di letteralmente fuori di testa. Ci può stare assolutamente sì, un controllo maggiore o comunque più preciso, semplicemente anche per un posizionamento migliorato di quella che è la realtà esportiva. Ma laddove in Francia si sta pensando di portare l'esporto addirittura come qualcosa di nazionale, in Italia per l'ennesima volta abbiamo chi rima contro. Qui è proprio una questione generazionale e mi dispiace dover fare questo video a distanza del video precedente in cui parlavo di quella schifosissima intervista con quel senatore di Forza Italia che ha fatto un libro veramente raccapricciante. Ma questa è la realtà dei fatti. Sono appena tornato dal comico e mi trovo già così, con una notizia di merda che non solo danneggia il settore videoludico, ma danneggia letteralmente il settore delle aziende fatte dai giovani, quindi dell'imprenditoria giovanile, dell'imprenditoria di persone che abbracciano un settore nuovo che invece non è mai stato calcolato e sempre stato considerato come un gioco, un giocattolo. Ora, io sono sicuro che le cose potrebbero andare in questo modo. Il signor Seggio Milesi, l'attuale AD di LED, amministratore delegato di LED appunto, cosa succederà? Succederà che qualcuno probabilmente lo minaccerà, perché ci sono sempre questi sgargiulli, questi individui particolari che dal mondo probabilmente videoludico si lasciano in insulti un pochino più particolari, e probabilmente utilizzerà questa potenziale minaccia come unica perla per poi magari chiamare qualche realtà come Barbara d'Urso, le Iene, eccetera, e dire, ah guardate, non solo sono gli scansa fatiche questi giovani, ma sono anche violenti, i videogiochi fanno violenza, e quindi verrà intervistato, portato appunto sul palmo della mano come l'unico vero fautore della salvezza dei giovani, perché li leva da queste mostruose postazioni che invece plagiano le menti, perché è quello che succede esattamente in questo fottuto sistema di comunicazione italiano, cioè la televisione. Quindi vi prego cari videogiocatori, non andate a minacciare questo qua, perché dareste solo pane a questi individui, che poi farebbero dei servizi dove dicono che i videogiocatori sono dei rincoglioniti e dei violenti, e darebbero ragione a lui, perché è così che funziona la TV in Italia. Non fate, lasciate perdere questa cosa, spero possa arrivare a un quid molto velocemente, cioè all'interno del mese di maggio. Perché qua si parla comunque ragazzi, di bloccare attività commerciali di persone che hanno aperto un SRL, che quindi devono pagare le tasse. E allo Stato, credetemi, non gliene frega nulla se tu fatturi 0 o fatturi 10.000. Alla fine dell'anno, come minimale, ad esempio dell'Inps, cui 3.650 euro tu dovrai darli, anche se hai fatturato 0. È questa l'Italia in cui viviamo. Speriamo che la cosa si risolve in tempi super mega brevi, in bocca al lupo a tutti coloro che stanno purtroppo affrontando questa situazione, e signor AD di LED, Sergio, eccetera. Ma fatti un giro tra i giovani davvero, invece di rompere i coglioni con le tue sale, piene di gente ludopatica che si gioca agli stipendi. Dai, per cortesia, facciamo qualcosa di buono ogni tanto. In bocca al lupo a tutti ragazzi, grazie ancora per essere stati qui con me, se volete supportarmi trovate tutto quanto qua sotto nella descrizione. Ovviamente voglio sentire anche la vostra. Quindi grazie del vostro tempo, signore e signori, e noi ci vediamo sul campo. Grazie a tutti.